Ogni anno a settembre, puntualmente, con l'inizio di un nuovo anno scolastico, gli insegnanti sono chiamati ad assolvere gli adempimenti di rito. E tra questi vi è la progettazione di classe. Un rito che con gli anni rischia di diventare ripetitivo, quasi un atto burocratico da espletare, un documento che poi rimane spesso in un cassetto per il resto dell'anno scolastico. La progettazione, infatti, non di rado è di classe solo sulla carta, perché in realtà essa spesso viene affidata al coordinatore, che magari aggiorna o modifica in parte quella dell'anno scolastico precedente, e la presenta ai docenti del consiglio di classe, i quali inseriscono i contenuti disciplinari da svolgere nel corso dell'anno scolastico. E' chiaro che una progettazione di questo genere serve ben poco agli insegnanti, perché non è espleta la funzione che dovrebbe svolgere, che è quella appunto di guida orientativa per ciascun docente del consiglio di classe, di confronto comune e di feedback continui per monitorare il processo di apprendimento dei nostri alunni. Questo corso ha lo scopo di restituire alla progettazione di classe la sua più autentica funzione e di svincolarla da quella meramente burocratica nella quale spesso essa viene confinata. Infatti affronta gli aspetti nodali della progettazione di inizio anno in maniera operativa, immediatamente spendibile, mediante indicazioni, suggerimenti, proposte e semplificazioni commentate delle situazioni più frequenti e mediante anche azioni di accompagnamento per una progettazione finalizzata alla formazione integrale degli studenti. Il corso, che abbiamo voluto chiamare Insegnare per lasciare il segno, un modo nuovo di apprendere e di insegnare, esempi commentati, è rivolto a tutti gli insegnanti di ogni ordine grado ed è articolato in moduli. Il modulo che qui presentiamo ha come titolo Progettiamo insieme una didattica innovativa ed efficace. Esempi commentati di progettazione. Il corso è articolato in tre webinar, uno di presentazione degli aspetti significativi della progettazione di classe, un webinar intermedio di monitoraggio del corso e un webinar finale con le riflessioni a consuntivo. Inoltre vi sono dieci ore di registrazione durante le quali vengono affrontati i punti tematici nodali della progettazione di classe, a partire dalla conoscenza concreta ed effettiva degli alunni, per continuare con gli strumenti per l'individuazione dei bisogni formativi della classe e ancora sono trattate situazioni problema relative alla progettazione e vengono fatte delle semplificazioni. Il corso prevede anche un'azione di accompagnamento per la costruzione condivisa di modelli progettuali e la messa a disposizione di materiali di approfondimento ed esempi operativi. Lo scopo di questo corso è quello di trasformare la progettazione di classe da atto formale a mappa orientativa per il lavoro didattico quotidiano, di mantenere nel corso dell'anno scolastico la focalizzazione sui bisogni formativi individuati e di monitorare regolarmente i processi, di dare indicazioni su come sviluppare percorsi e ambienti educativi attenti alla personalizzazione e all'inclusione. Buon lavoro a tutti!